Buongiorno ragazzi, ormai conoscete benissimo il divano di casa mia e anche per questa settimana riproponiamo la nostra didattica a distanza. Questa settimana parliamo di specializzazione dei ruoli e posizioni in campo, quindi una lezione un po' più dedicata a quella che è il nostro percorso di studi e molto più vicino a quello che è il valore accademico del corso, quindi cerchiamo di entrare un pochino nel dettaglio su quelli che sono le specifiche dei giocatori che fanno parte di un'unità squadra e di fatto poi ci addentriamo su quelli che sono i discorsi di schemi di gioco e falli di formazione, riprendendo anche un po' quello che era stata l'apertura di questa serie di video lezioni, vi lascio poi magari un riferimento anche nelle descrizioni dove ne parliamo, ve la andate a riguardare se non vi ricordate bene di che cosa sto parlando. Partiamo da un presupposto. Se quando noi ci alleniamo, quando noi ci allenavamo in palestra ormai qualche mese fa, tutti i componenti della squadra facevano tutto. Quel tipo di gioco con i sei componenti che fanno in maniera diciamo a specifica tutte, partecipano a tutte le fasi del gioco senza avere specializzazione, si chiama uno schema 6 universali. Dopo ve lo mostro bene nel dettaglio dal mio computer. Però poi abbiamo anche parlato l'altra settimana, la settimana scorsa, della prima specializzazione. In età giovanile il primo ruolo che viene specializzato è il palleggiatore, cioè il giocatore che normalmente gestisce il secondo tocco e sarà quello che si incaricherà nella stramaggioranza dei casi di andare a proporsi per alzare il pallone a quelli che saranno gli attaccanti. Ci sono poi altri ruoli. L'altro ruolo di cui avevamo già accennato è il libero giocatore che è deputato unicamente ai fondamentali di seconda linea. Oltre a questi due ruoli ne esistono altri tre, che sono gli schiacciatori ricevitori, gli opposti, l'opposto al palleggiatore e i centrali. Questi ruoli si differenziano per caratteristiche diverse. Ognuno di questi ha delle peculiarità che andrà a sviluppare all'interno del collettivo squadra, fondamentalmente. e per poter svolgere al meglio questa sua peculiarità necessiterà di ricoprire delle zone ben precise del campo. Iniziamo a capire meglio questo concetto. Per intendersi, gli schiacciatori hanno la peculiarità di essere impegnati nella ricezione, quindi nel ricevere con fondamentalmente il primo servizio da parte della squadra avversaria, e attaccare principalmente da posto quattro. L'opposto e i centrali sono disimpegnati dalla ricezione e hanno la peculiarità rispettivamente l'opposto di attaccare principalmente dal centro della rete. In più, essendo disimpegnati dalla ricezione, hanno l'opposto il compito di attaccare anche dalla seconda linea, e lo vedremo in separata sede, nello sviluppo comunque del gioco. E i centrali vengono sostituiti in seconda linea dal libero, il, come già detto, il giocatore deputato ai fondamentali unicamente di seconda linea. Ok? Queste sono le prime grosse considerazioni. Voi dovete immaginare questi ruoli separati e i ruoli separati che devono avere la possibilità di incasellarsi in quelle che sono le loro peculiarità, in quelle che sono, diciamo, i loro compiti all'interno della squadra stessa. Però vi ricordo che per sviluppare da regolamento un'azione, i giocatori devono partire in una determinata zona del campo. E questo ovviamente implica delle soluzioni per non fare fallo con gli altri giocatori, quindi non commettere un fallo di formazione, e poter far sì che il giocatore deputato a una specifica fase possa svilupparla in maniera, diciamo, coordinata rispetto a quello che è tutto il collettivo squadra, fondamentalmente. Per far fronte a questa situazione, quindi a far fronte a poter sviluppare ognuno le proprie peculiarità, quindi i propri compiti specifici, e non commettere fallo, sono stati messi in atto quelli che vengono chiamati gli schemi di gioco. Ora, a video, vi mostro quelli che sono i principali schemi di gioco che si vanno a sviluppare nella pallavolo, partendo dal basso livello fino al livello assoluto. Vi mostro, adesso vi condivido il video. Allora, partiamo da capire, rinfrescarci un po' la memoria e capire questa cosa che abbiamo già accennato nella nostra prima lezione, che appunto sono le posizioni in campo, ce le rinfreschiamo e cerchiamo di valutare quelli che sono le casistiche per cui un giocatore fa fallo con un suo compagno di squadra. A sinistra, sotto il caso 1, ho semplicemente riportato le posizioni in campo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel campo 2 ho riportato, ho dato semplicemente dei nomi dei giocatori, chiamandoli da A a F con le rispettive lettere. Il primo concetto che dobbiamo capire sono le diagonali. Allora, quando io sono disposto in campo, all'inizio di ogni set viene consegnata una formazione. La formazione è di fatto vincolata a quel set e ci sarà un giocatore, nel nostro caso, come possiamo vedere nel caso 2, cioè il giocatore A è disposto in posto 1, il giocatore B in posto 2, C e via dicendo, in posto 3 e via dicendo. Questi giocatori sul campo formano delle diagonali. Le diagonali sono posto 1 con posto 4, posto 2 con posto 5, posto 3 con posto 6. Se prendiamo il caso 2, le nostre diagonali saranno A con D, B con E, C con F. Questo perché descriviamo questa condizione? Perché ci sarà una fase in cui, una volta realizzato il mio cambio palla, la squadra in campo effettuerà una rotazione. Quindi cosa significa? Che il giocatore A, invece che stare in posto 1, come descritto in fotografia, passerà in posto 6. Spostandoti in posto 6, la sua diagonale corrispettiva sarà col posto 3. E quindi significa che il giocatore D dovrà portarsi in posto 3 all'inizio dell'azione successiva. Quindi una condizione è quella di mantenere sempre le diagonali iniziali della formazione di quel specifico set. Quindi il giocatore fa fallo se, diciamo, sbaglia questa condizione di diagonale. Sbagliando questa condizione di diagonale, che cosa fa fondamentalmente? Si dispone in maniera errata rispetto al giocatore che gli sta alla sua destra e alla sua sinistra. Nel caso, diciamo, sempre riguardando il caso 2, quello con le lettere in campo, il giocatore A si ritrova sempre con F alla sua sinistra e B alla sua destra. Ogni azione dovrà partire con quella condizione. Cioè, il giocatore A dovrà essere sempre in mezzo tra F e B. Quindi abbiamo già preso in considerazione due casistiche. Abbiamo la diagonale da rispettare e i giocatori che ci stanno vicini. Le due situazioni sono estremamente correlate, quindi è molto facile che se io sono nella posizione corretta tra tutti e due giocatori, entrambi i giocatori devono essere nella condizione corretta di essere affiancati dai loro compagni che sono stati disegnati per quello specifico set, allora si verifica la condizione di diagonalità. E poi c'è ancora un ultimo caso in cui avviene un potenziale fallo di formazione. Quando un giocatore di posto 1, 6 e 5 si trova davanti alla linea di partenza di posto 2, 3 e 4. Ora, la situazione vi sembra remota, però mostrandovi alcune casistiche vi mostro che poi si verifica abbastanza frequentemente se non si fa attenzione. Allora, vi mostro questa nuova slide. Questo è il nostro sistema di gioco, cioè quello che noi pratichiamo quando facciamo lezione in campo fondamentalmente. 6 universali, cioè tutti i giocatori fanno tutto, ok? Quindi chi si trova in posto 3 fondamentalmente si ritroverà ad alzare. Le quattro disposizioni che vedete qua disegnate sono possibilità di una squadra di poter ricevere, ok? di partire in una condizione di ricezione o anche in realtà in una posizione di breakpoint, non è necessario essere in ricezione. Però diciamo che sono posizioni di partenza delle varie azioni di gioco. Vedete già come, in questo caso in alto, se per caso il numero 6 fosse sulla linea dei 3 metri, commetterebbe fallo con posto 2 e posto 4. Vedete come il giocatore numero 1, che nel nostro caso era il giocatore A, se ve lo ricordate, sta, si ritrova con il giocatore 2, che era qui in prima linea descritto nel nostro esempio con B, alla sua destra e il giocatore F alla sua sinistra. E rispetta la diagonale perché? Perché il giocatore di posto 4 è anche lui disposto tra il giocatore 3 e il giocatore di posto 5, ok? Quindi, la condizione per cui il fallo, in questo caso non c'è fallo, perché? Perché posto 6 è sulla stessa linea di posto 2 e posto 4 che sono in prima linea, ok? Se posto 6 fosse qui, davanti alla linea dei 3 metri, sarebbe in una condizione di fallo, ok? Qui vi mostro altre possibilità che esistono di linee differenti con gli stessi principi. Alcune di queste linee fanno parte anche di sistemi di gioco più evoluti, quindi sono ricezioni a 3, una ricezione disposta più a trapezio oppure a semicerco con 4 giocatori chiamati in causa. Questi sono soltanto alcuni esempi di condizioni di partenza all'inizio di un'azione. Ora passiamo ad esaminare uno schema di gioco invece leggermente più complesso, quello che viene definito 2P4S, che sta per due palleggiatori, quattro schiacciatori. E queste sono le condizioni cui dobbiamo fare una partenza variata. Allora, guardate cosa succede. I nostri palleggiatori sono il numero, il posto 4 è il 2, ok? Se teniamo in considerazione la figura che abbiamo visto prima, no? Iniziale, dove ogni giocatore deve avere un suo corrispettivo alla sua destra e un corrispettivo alla sua sinistra, un giocatore, quindi quello che viene disegnato all'inizio della rotazione del set, in questo caso si necessita una partenza variata rispetto a quelle tra virgolette canoniche. Vedete che in posto 3, né in un campo né nell'altro, non c'è nessuno. Allora, perché? Perché posto 4 e posto 2, il numero 4 e il numero 2, sarebbero quelli che in questa rotazione dovrebbero trovarsi proprio in posto 3. Ma se partissero in posto 3, vedete come? Si troverebbe una condizione variata rispetto al numero 3. Perché? Perché se in questo caso il numero 4 rispetto al numero 3 si ritrova alla sua sinistra, se partisse direttamente in posto 4, si troverebbe alla sua destra. Questo determinerebbe una condizione di fallo. Ripeto, vedete come il numero 4 è alla sinistra del numero 3. Se partisse direttamente da posto 3, la sua zona in cui dovrebbe essere all'inizio di quella rotazione, se fossimo nell'altro tipo di schema, quindi i 6 universali, si ritroverebbe automaticamente alla sua destra e non rispetterebbe uno dei principi per cui si fa fallo di formazione. Perché la diagonale è rispettata, però cambia la condizione tra chi gli sta accanto, tra i due giocatori che gli stanno accanto. Stesso discorso equivale per il numero 2. Il numero 2, se partisse direttamente da qui, cambierebbe la condizione rispetto al numero 3. Perché? Perché in questo caso la sua partenza è alla sua destra, se invece partisse da qui, si ritroverebbe automaticamente alla sua sinistra. E questo non rispetterebbe uno dei tre principi. Nel disegno vedete bene come 6, il numero 6, in tutti e due gli schemi, è dietro la linea del numero 3 e del numero 2. Perché? Perché è giocatore di seconda linea e non può stare più avanti della linea dei giocatori che sono appunto nella fase di prima linea, nei posti 4, 2 e 3. Questo per quanto riguarda il cambio da ala. Sì, perché questo schema di gioco viene anche chiamato cambio da ala, come potete vedere da questa scritta. È la stessa cosa che definirlo 2P4S. Ora vi mostro invece come vengono organizzate gli schemi di gioco di una squadra di alto livello. Allora, questo sistema di gioco è quello che viene definito o penetrazione singola, quindi formalmente si chiama penetrazione singola perché il palleggiatore entra anche dalla seconda linea per inserirsi e portarsi a palleggiare. Oppure una P2S2C1A1, che significa semplicemente un palleggiatore, due schiacciatori, due centrali e uno opposto. Allora, ha sei rotazioni ben definite. Perché? Perché ogni schede, ogni posizione, viene determinata dalla posizione del palleggiatore. Come vi avevo già detto nella prima videolezione, le fasi vengono difise in funzione di dove parte il palleggiatore. Senza entrare troppo nei dettagli, vi mostro soltanto quelli che sono i ruoli. Poi ve le mostrerò. In realtà questa parte qui sarà una parte in cui approfondiremo soltanto nel caso di qualcuno di voi volesse ambire a fare qualcosa in più, soprattutto in fase di esame per chi volesse fare l'orale. Quindi non vi preoccupate troppo di questa componente. Vi spiego soltanto che P sta per palleggiatore, S1 e S2 sono gli schiacciatori, C1 e C2 sono i due centrali e la O è l'opposto. Queste partenze si rendono necessarie per far sì che i giocatori vengono, come vi ho detto nell'introduzione, messi in condizione di poter fare quelle che sono le loro, diciamo, mansioni all'interno della squadra stessa. Cioè, voi dovete immaginare che al posto del centrale di seconda linea ci sarà sempre il libero e quindi sarà scaricato dalla ricezione. Quindi non farà mai il giro in seconda linea. Normalmente è questo, questo parliamo di condizioni nella stragrande maggioranza delle squadre di alto livello. Come potete vedere anche l'opposto è sempre fuori dalla ricezione. Vi ho messo anche qualche appunto qua e là dove vi metto, vi ho messo anche queste specifiche. Generalmente, ribadisco, generalmente questo tipo di discorso, nella stragrande maggioranza dei casi. E si andrà a riproporre per un attacco dalla seconda linea. Per gli attacchi dalla seconda linea vi rimando sempre alla prima videolezione. E poi ci sarà il palleggiatore che, disimpegnato dalla fase di ricezione del primo tocco, si proporrà nella zona, diciamo, canonica di alzata per andarsi a proporre per alzare, per palleggiare. Va bene? Ripeto, questi schemi seguono esattamente le regole che vi ho enunciato fino ad ora. Non state lì a impazzire a riguardo a questo tipo di discorso perché potete verificare comunque che rispettano esattamente le condizioni che abbiamo descritto in precedenza. Cioè, facciamo finta, questa qui è P1, il palleggiatore è in posto 1. Vedete la diagonale? 1, 4, coerente. S1 è in posto 2, è in ricezione. Quindi questo S1 è in prima linea. Vedete come il palleggiatore gli parte dietro. In più, il palleggiatore, cioè S1 ha il centrale alla sua sinistra, perché è in posto 3, questo è in posto 2, questo è in posto 3, e il palleggiatore che rispetta la posizione alla sua destra. Inserisce e a sua volta il centrale è sulla stessa diagonale e, essendo S2, C1 in seconda linea, S1 parte avanti. Lasciamo stare i dettagli. Comunque, queste sono le condizioni che ci portano a uno schema di alto livello. Le cose che dovete sapere sono i ruoli, come si chiama questa condizione qui, e avere ben chiaro quelle che sono le condizioni che ci siamo, diciamo, enunciate, che abbiamo descritto fino a questo punto. In questo caso, se non arrivano delle domande, sono certo che non state facendo, non state guardando i video, non state seguendo le lezioni, perché ovviamente so che è un argomento complesso. A parte gli scherzi. Per favore, fatemi delle domande sulle cose che non sono chiare. È evidente che ce ne saranno. Cerchiamo di assimilarle con calma. Abbiamo tutto il tempo. Vi ricordo che questa parte sarà oggetto di esame, quindi un minimo dobbiamo possederla. Alcuni di voi mi hanno fatto delle domande via mail, che non è assolutamente un problema, va benissimo. In questo caso vi pregherei di lasciare sotto il commento, in maniera che magari siamo utili anche a qualche altro vostro compagno. Io magari do una risposta che potrebbe essere fruita anche da qualcun altro che ha lo stesso dubbio, ok? Quindi, nel caso, cioè, ovviamente immagino che ci saranno delle domande perché la lezione è abbastanza complessa sotto il profilo tecnico, lasciate qua sotto il vostro commento, così tutti quanti possono fruire della mia risposta. Vi auguro un'ottima settimana e un buon lavoro. Alla prossima!